Deve essere bloccata dall'altra parte. Grazie a tutti. L'altro lato deve essere sbarrato. Un incubo prima del mio matrimonio. Il mio vecchio spasimante che rovina la cerimonia. Era un sogno. È tutto a posto. Sembri... Trova la guerriera con la treccia. È la nostra sciagura. Una ladra di sogni. Una guerriera con una treccia. Non può essere Randvi. Dove si trova? In una chiesa a nord-ovest di qui. Nel sogno non ho visto altro. Trovala e ti prego. Fammi dormire. Un incubo prima del mio matrimonio. Il mio vecchio spasimante che rovina la cerimonia. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.